ciao a tutti cari ciao 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 benvenuti o bentornati nel canale allora in questo video vi mostro un altro dei tantissimi oracoli e qualche anche mazzo interocco effettivamente che ho comprato ultimamente lo sapete che non resisto quando vedo un mazzo che mi piace tanto questo l'ho trovato davvero super 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 originale è dell'enormand si chiama rana george oh boh si pronuncia in un altro modo non lo so by rana george george artwork by kelly l french è un l'enormand in stile medio orientale in stile si medio orientale e io quando l'ho visto sono impazzita completamente è davvero meraviglioso troppo bello l'unica cosa che mi ha lasciato un po' di stucco che non mi aspettavo è che è un mini mazzo nel senso che le carte sono davvero piccoline piccoline infatti qua vabbè a parte il libretto con le spiegazioni con l'ancora a parte il libretto dicevo vedete le carte sono piccole 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 ma straordinario davvero troppo bello allora si presenta così adesso ve lo mostro il dietro è così con la mano di fatima questa stella questa stella che sono sicura abbia il suo significato questa cornice questo colore blu elettrico e iniziamo questa carrellata con questo piccolo ma meraviglioso oracolo allora qui abbiamo la prima carta che dovrebbe essere il messaggero o il cavaliere non ricordo il quadrifoglio cioè notate che bello il contorno con queste colonne in stile troppo bello qua abbiamo il battello questa onestamente ragazzi non me la ricordo l'albero le nuvole il serpente guardate guardate che bella questa donna la tomba i fiori la falce questa è la frusta la scopa gli uccellini che carini questo questo non ricordo forse è il bambino ma non vorrei dire castronerie vediamo il 13 che cos'è si bambino la volpe la volpe a proposito della volpe voi non ci crederete voi non ci crederete ma io fino ad ora non avevo mai visto una volpe dal vivo ultimamente pazzi ca dietro al boschetto che ho qua dietro casa e l'ho vista tre volte tre volte l'ho vista addirittura addirittura una volta stava stava camminando velocemente così e c'era anche un coniglietto io stavo già aprendo la finestra per per urlare per far scappare il coniglietto perché ho visto che il coniglietto non scappava invece la volpe è passata dritta non l'ha manco guardato incredibile si vede che la sazia corso che bei disegni questo non me lo ricordo dovrebbe essere dovrei dire faro ma non me lo ricordo ragazzi che figura ah no le stelle semplicemente le stelle la cicogna io non le so leggere le norma cioè le prendo proprio perché mi piacciono i disegni dico la verità non escludo in futuro di impararli però eh i cani questo dovrebbe essere il faro vediamo se dico castronerie vediamo se dico castronerie per tindirindina ah no la torre che stupida è vero niente mi sono messi in testa che c'è per forza un faro ma non è vero la torre questa è la fonte nei giardini mi sembra montagna non ricordo perdonatemi i topolini che mangiano adoro queste carte l'anello il diario la lettera eccolo qua questo è il diciamo gentiluomo e qua ne abbiamo due hanno voluto darci la stessa carta in versione diciamo no classica eh tradizionalista col vestito e in versione invece vestito più moderno ma anche tra qua come si fa a scegliere cioè sono bellissime tutte e due stessa cosa per la dama ci offre due opzioni un po' più classica diciamo moderna e un po' più tradizionalista col col vestito tipico insomma questo è proprio jasmine di aladin e questo invece da elegante che carine poi abbiamo poi abbiamo i fiori o il bouquet credo il sole la luna che si riflette nel mare sono così evocative queste carte la chiave i pesci l'ancora la croce questo proprio non me lo ricordo vediamo il trentasette che cos'è non me lo ricordo proprio ah spirito beh sì ingiustamente notare gli elementi qua c'è l'aria il fuoco qualcosa che è no questo qua guardi che bella questa camera e l'ultima è questa ci mostra questo lato della città dei negozi di questi veicoli eccoci qua eccoci qua eccoci qua con tutte le carte che dire che dire sapete la mia passione per per questi mazzi quando trovo mazzi un po' così un po' particolari un po' diversi dal solito come in questo caso e che comunque appunto con i disegni così belli che mi piacciono non resisto poi compro ok ragazzi io spero di avervi rilassato un pochino con questo video show and tell e nulla prima o poi me li studierò gli normand secondo me nella vita come ho avuto la chiamata per i tarocchi avrò la chiamata per gli normand ok grazie per avermi fatto compagnia vi do tanti baci e se volete ci vediamo la prossima volta ciao cari ciao 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 Grazie a tutti.